Oggi vi annuncio l'apertura del mio canale youtube Da dopodomani in poi, perché io registrerò soltanto il mercoledì o tutti i giorni, scrivetelo molto sotto nei commenti Vi avverto che io farò video soprattutto di slime quando però avrò finito le idee smetterò di fare gli slime aprirò qualche altra cosa divertente poi ditemi voi cosa potrei aprire, scrivetelo sempre qua sotto nei commenti Vorrei raggiungere nei prossimi video un paio di like questo era soltanto un annuncio ora vi saluto e a domani, non so se volete i video di domani, dopodomani non so quando li volete, quindi vi ho avverto che me lo dovete scrivere qua sotto nei commenti se no io li registrerò soltanto di mercoledì, un giorno Ciao e alla prossima, anzi suggeritemi anche come chiamare il canale, perché io non lo so proprio Via! Alla prossima, ciao!